competitiva che bella la partenza che bella e stanno salendo li vediamo un applauso per i concorrenti che in questa domenica di 12 maggio partecipano alla Bruno Rossini Run la c'è il tifo vediamo che qualcuno incita i propri amici Porta Raffa sento forza Paola forza Laura forza Ale forza Marco forza Francesco forza Ugo forza Luca forza Antonio forza Alessandro forza Paola forza Lorena forza Vera forza Sofia forza Villa forza Villa ovviamente condivido forza Dele forza Dele che sta andando veramente forte Luca e Tommaso che sono gli organizzatori mi suggeriscono qui assieme a Daniela che stavo dormendo mi ha fatto venire un pa' di corsa grazie Daniele un abbraccio vi faccio una cosa un applauso anche loro che giustamente di domenica se la prendono calma loro dicono noi vogliamo esserci a prescindere dal tempo grazie